I dissapori con Forza Italia erano noti e la sua presenza ad un evento organizzato dalla Lega per le prossime elezioni non era passata inosservata. L'onorevole Antonio Martino, eletto alla Camera dei Deputati nel 2018 con Forza Italia nel Collegio dell'Aquila, dice addia al suo partito e passa al carroccio ufficialmente. Ad ufficializzare l'adesione il vicepresidente dell'Aggiunta regionale Manuel Imprudente e il coordinatore regionale Luigi Deramo. Per Imprudente Martino ha lavorato bene per il centrodestra e la sua scelta inorgoglisce il partito. In molti territori c'è attenzione per la Lega, hanno detto i presenti, molti soggetti politici guardano il partito con un interesse vero e di rinnovamento. Un percorso, quello della Lega, che sarà fatto nell'interesse esclusivo per l'Abruzzo. Martino ha ricordato il suo percorso da imprenditore, quando fu letto non aveva testere di partito, ha ribadito. Martino non rinnega l'esperienza fatta, anzi ha ringraziato Forza Italia. Perché è nata intanto una grande amicizia con Luigi Deramo, lavorando insieme per l'esigenza dell'Abruzzo. Ho fatto questa esperienza da imprenditore candidato con Forza Italia, ho concluso con giovedì scorso l'ultima seduta in Parlamento e questa scelta è dovuta a una sete di volersi impegnare per il futuro. Oggi dal 13 ottobre da semplice militante e la Lega penso che sia per me e per l'esigenza del nostro territorio il partito che ci può dare questa garanzia. Deramo si è detto particolarmente contento dell'adesione di Martino e ha ricordato la collaborazione con lui su temi importanti che hanno interessato l'Abruzzo come terremoto, l'istino prezzi di costruzione, snellimento delle procedure, battaglie in commissione in aula per i fondi del sisma, gli emendamenti per stabilizzare il personale precario. Deramo ha parlato di un lavoro insomma fatto gomito a gomito con Martino e l'adesione di un parlamentare alla Lega per Deramo è un dato politico importante perché la Lega è un partito in continua crescita, lo hanno detto più volte, che sta raccogliendo centinaia di adesioni anche da parte di amministratori locali. La Lega Abruzzo ha ricordato che è stato raggiunto l'obiettivo dei centi incontri in 25 giorni di campagna elettorale.